Musica Sono tornata con molta voglia di salire in moto, cosa che quando lo fai con tutti gli soliti automatismi magari lo dai per scontato. E invece avevo voglia di ricominciare, avevo voglia di rimettermi in forma, di ritornare dietro un cancelletto e questo sicuramente è quello che mi dà la carica e la motivazione più grossa in assoluto per tornare motivata al campionato del mondo così come al campionato dell'italiano. Musica 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 Musica